In questo video ti farò vedere come iniziare a utilizzare velocemente l'App for Graves. L'hai appena scaricata e ti sei registrato e questa è la schermata che ti appare. La prima azione che devi fare è quella di abbinare la tua azienda. Allora, premo i miei vigneti, seleziono Aggiungi azienda, scrivo l'email dell'azienda a cui mi voglio abbinare. Io in questo caso scelgo un nome e una mail dell'azienda forgrapes.it e ragione sociale scrivo forgrapes. E richiedo l'aggiunta dei vigneti perché voglio aggiungere un'azienda sulla quale poter creare i vigneti e creo e mando la richiesta. La richiesta viene presa in carico dal sistema e entro breve riceverai una mail che ti avvisa che l'abbinamento è avvenuto. Bene, a questo punto una volta che hai ricevuto la mail ritornerai sulla stessa funzione nei miei vigneti. A questo punto nella lista troverò l'abbinamento forgrapes e vado a creare una vigna. La vigna cos'è? È quella luogo che raggruppa un certo numero di vigneti. Ha diversi nomi, io ne metto uno di fantasia, Braida. All'interno lo ripremo, premo la vigna che ho appena creato, che ho appena scritto e scrivo il mio vigneto. Qua finalmente andiamo a creare i miei vigneti, i vigneti della mia azienda. Il vigneto avrà un nome, lo chiamo Pino Grigio Braida. Ci sono molte informazioni ma quelle fondamentali sono il vitigno e quindi abbiamo detto di aver scelto il Pino Grigio e lo seleziono nella lista dei vitigni. Il tipo di conduzione, mettiamo che sia biologico. L'anno di impianto è un'informazione obbligatoria ed è stato impiantato nel 2010. Altre informazioni le potete aggiornare o aggiungere successivamente. e la superficie dichiarata è la superficie che voi in metri quadri avete di questo vigneto. A questo punto rilevate la posizione. Dovete essere meglio nel vigneto, meglio se al centro o all'interno del vigneto stesso che state creando e fate salva. Bene, con questa semplice operazione avete creato il vigneto e in questo momento andando a riselezionare il vigneto stesso e vai al rilievo vi si accede e iniziate finalmente a fare i rilievi. Qua per ogni tipo di rilievo potete trovare diversi tutorial sia sul canale YouTube sia sulla guida al monitoraggio che riceverete ogni settimana da adesso in poi e anche all'interno dell'app nella sezione tutorial. Grazie